C'è Carlo Maestrone e il ciocomometro, insomma stiamo insegnando qua in questo laboratorio poi in cioccolato, faremo lezione per i bambini, per gli adulti, questa sarà una bellissima festa, speriamo, fresca ma piena di cioccolato artigianale. Adesso l'assessore ci aiuterà a realizzare questa mega tavoletta da 10 metri, l'assessore ci prova, è una bella mano, non buttarlo via, sai che a me piace, stanno facendo i complimenti da più largo che la basta, stanno facendo bene. Ottimo, ottimo, fantastico. C'è solo delle miglia risorse. Fabrizio, andiamo? Sto prendendo gusto comunque. Sì. Sto prendendo gusto comunque. La prima volta, ecco qua eccolo. La prima volta, vuoi! Ce l'hai a mangiare? No, ce l'ho a mangiare! Mi dai un poco di mangiare! Grazie! Ciao!